Salve ragazzi sono Master Wallace, carico carico carico, ho sentito la Gaia che sta abbagliando evidentemente nel radar ha captato qualcosa, è sempre vigile, è sempre attenta. Allora ragazzi grazie a tutti di essere qua, l'argomento oggi è questo, 5 domande molto scomode a Master, Master risponde, sono 5 domande che mi vengono spesso fatte, io ho già risposto in varie occasioni e contesti, però lo voglio rifare, così se un domani mi rifanno queste domande io dico andate a vedere il video dove ho risposto a queste domande, ok? Ok, bene, allora ci siamo ragazzi, dunque vado con la prima domanda, questa è una cosa che veramente l'avevo già spiegata, la rispiego, allora molti mi chiedono se mi sono strappato i bici di sinistro, non so perché hanno questa idea, effettivamente c'è questa differenza estetica ma devo dirvi che non è così, non è così. Allora io in un video di poco tempo fa ho già spiegato questa cosa, ho messo anche delle foto, ho messo foto dei miei inizi futuristici durante tutta la mia carriera e noterete che la forma del bici di sinistro è quella, cioè è più corto rispetto al destro, è sempre stato così, sia quando erano poco sviluppati, quando erano molto sviluppati, è sempre stato così. Il destro è un pochino, l'attaccatura un po' più lunga è un po' meno picco, questo comporta che io quando faccio le pose di bici di devo un po' lavorare di polso, in modo che appaiono più o meno simili, ma non sente di strano in questo, è una cosa, allora ripeto, guardate tutte le mie foto dagli inizi fino adesso, vedrete che questa è la situazione. Ecco, alcuni campioni hanno queste caratteristiche anche loro diverse, poter citare lo stesso Arnold, lo stesso Arnold, lui stesso l'ha detto ma si è visto molte volte, lui giocava molto col gioco dei polsi in doppio bicipite, proprio perché aveva bicipite di forme diverse, non erano un po' più uguali, lui era maestro in questo gioco di polsi, anche io me la cavo abbastanza bene, perché vedete poi la forma dei bicipiti è diciamo genetica, ci sono alcuni campioni che avevano completamente piatti, cioè ventri lunghi ma piatti, senza picco, potrei citare Sergio Oliva, potrei citare due campioni italiani del passato, Focherini, se lo ricorda, e anche Secarecci per dire, se andate a vedere loro foto avevano un bicipite, un ventre lungo ma non c'era il picco, purtroppo lì c'è poco da fare, invece se vogliamo vedere caratteristiche opposte di bicipiti molto corti, con un bel picco, possiamo poter citarvi Albert Backless, aveva i bicipiti con un'attaccatura cortissima, che lì sembrava che fossero strappati, perché praticamente c'era un solco fra l'inizio del bicipite e l'attaccatura del tenis, ma erano fatti così, semplicemente, però gli aveva simmetrici, ecco, qui nel mio caso c'è questa piccola differenza, che però ripeto non altera la misura delle braccia, sono entrambi 48 a freddo, il tricipite sotto la mezzaluna c'è, quindi è tutto a posto, e le braccia di Master sono un must, un simbolo, oltre che alle sue gambe, i suoi deltoidi, potrei continuare. Quindi vorrei chiudere qui questa cosa, poi ognuno si tenga l'ipotesi che vuole, io gli ho detto come stanno le cose. Allora, ah sì, questa è un'altra domanda che mi fanno, siccome io ho sempre ribadito che non faccio nessuna TRT né fisiologica né ultrafisiologica, dato che non mi sono mai dopato, al contrario di tanti altri qui che, poveretti, avendo abusato l'aerodoroalcio hormonale ormai è out, sono costretti a farsi iniezioni di testosterone per tutta la vita, per una cosa che si sono causati loro e per tutta la vita si farà iniezioni di testosterone. Un conto è che uno è malato, o ha una patologia, o è molto molto anziano, no, questi erano giovani, si sono attirati l'aerodoroalcio hormonale con abusi, adesso sono indotti a farsi a TRT a vita, come veramente gente, veramente malato, o anziani di ultra 90. E quindi, ecco, allora, io non avendola mai fatta, la domanda che mi fanno è questa, ma tu di testosterone quanto hai? Cioè, come fai a mantenere questo fisico, questa forma fisica, queste masse? Dovresti averlo altissimo. Quanto hai di testosterone? Te lo sei mai misurato? La risposta è non lo so, non lo so, non me lo sono mai misurato, sarei anche curioso, magari in un evento, l'ho già detto, sono disposto a farlo, nessun problema, nel contesto adatto, è chiaramente, non così, perché un picco pallino arriva, tu, si deve fare nel vento adatto. Non lo so, non l'ho mai misurato, però io vi dico questo, non credo che sia a livelli molto alti, non credo, anche perché sarebbe difficile, credo che sia a livelli, sicuramente non sotto livello borderline, non sotto, sicuramente no, se no non potrei essere così o andare avanti. Penso che sia a livello medio, medio basso, cioè mi mantengo sempre sopra il livello borderline, a volte può avere dei picchi un po' superiori, una cosa, diciamo media, mettiamola così. Quantificata non ve lo so dire, quanto potrebbe essere, non so, potrebbe essere un 4, un 6, non lo so, ma non è, questo non è che è molta importanza, perché se voi vi sentite bene, vi allenate bene, il fisico risponde bene, la muscolatura risponde bene, siete grossi, riuscite a rimanere magri, avete una sana libido, insomma voglio dire, se avete questi sintomi qua, terzoterone va bene, non dovete preoccuparvi, no? Come arrivano dei 35 anni, 40 anni, ah mi sento un po' giù, ho bisogno di terapia sostitutiva, di fame di terzoterone, di dove stiamo parlando? Non esiste sta cosa, quindi la domanda è se mi chiedete che livelli ho di terzoterone, non lo so, però posso dirvi che sicuramente sono adeguati, perché mi mantengo a questi livelli, quindi sto bene, anche in perfetta salute, ovviamente questo è possibile grazie a uno stile di vita, un'integrazione, strategie anche integrative importanti e stile di vita in generale, poi c'è anche strategie mentali, se proprio vogliamo dire tutto, ma questo è un altro argomento un po' delicato e quindi la risposta è che non lo so, però sicuramente è a livelli medi sufficienti per quello che devo fare e questo è quello che dovreste pensare anche voi, senza farvi troppi idee strani testi. Terza domanda, perché hai sempre questa credine, questo odio tra virgolette verso i dopati? Non è un odio diciamo di natura personale verso Tizio Caio, che magari manco conosco, è un discorso generale su chi usa il doping, ma perché? Perché io penso che chiunque usa il doping, può essere un campione, può essere un influencer, può essere un picco pallino, qualunque, non ha importanza, parlo in generale, nel momento che si presenta qui, o per ammissione che sia dopato, perché molti lo ammettono, adesso c'è la moda che molti lo ammettono, fanno il coming out e lo ammetto, così bene, oppure lo è manifestamente, anche se non lo ammette, ma è manifestamente il bombarolo, ecco penso che sia una forma di truffa nei confronti di chi lo ascolta, dei ragazzi soprattutto, perché quello è un fisico che non è reale, non è il suo fisico, è un fisico artificiale, costruito con l'uso dei farmaci, non ha importanza il fatto che dicono no, perché io mi sono allenato da anni, faccio sacrifici, non ha nessuna importanza, tutti fanno i sacrifici, tutti si allenano da anni, però con l'uso dei farmaci c'è questa trasformazione che permette di avere questo aspetto, che lo sfruttano per magari i loro legittimi interessi, mettiamola così, però è una forma di ripesa per i fondelli, lo ripeto, perché se tu mostri una cosa che è in reale e poi vuoi dire a qualcuno che dietro ci sta chissà che cosa di natura tecnica è falso, dietro di natura tecnica non c'è niente, perché dovrebbero dimostrare i loro meriti di natura tecnica o di motivazione o di dedizione senza l'uso delle bombe, dovrebbero far vedere quel tipo di fisico come faccio io, io quello che faccio vedere è senza l'uso di nulla, qui c'è un senso reale, chi invece mi si presenta bombato non ha alcuna rilevanza tecnica, né sul lato estetico né anche su eventuali performance, ho spinto quello, ho fatto quello, ho tirato quello, sono performance alterate che non hanno nessun valore, ma soprattutto il lato estetico, non è quello, quello che vedete non è quello e siccome sanno benissimo che se interrompono sparirebbero fisicamente, quindi decadrebbe la loro immagine, non avrebbero più una da dire, non smettono mai, diventano tossicodipendenti sostanzialmente, oppure se smettono si fanno TRT ultra fisiologiche che è un continuo doparsi, questa è la situazione attuale, questa è la situazione attuale, potete girare come volete, ma chiunque, fate a random, andate a vedere un po' tutto qui il panorama, vedete che la situazione è esattamente questa, senza bisogno di citare questo o quello, ma le cose che vi ho detto sono quelle, chiunque può verificare che le cose stanno così, quindi nessuna, personalmente ripeto, non molte persone, ma anche le conosco, è proprio un discorso sul fatto dell'uso del farmaco, è quello, io non approvo e non capisco, perché nei confronti di chi ascolta, dei ragazzi, di chi vuole imparare, di chiunque è appassionato di culturismo, per me è una forma veramente di prese per i fondelli gigantesca, se poi uno è contento di farsi i penni per i fondelli, e ce ne sono, tanti, quelli che dicono bravo, come quelli vogliono farsi i penni per i fondelli, quindi contenti, io lo contenti tutti, però io ti devo dire come stanno le cose. Allora un'altra domanda che mi fanno è questa, a questo punto della tua situazione fisica, qual è il tuo prossimo obiettivo, cosa dovresti fare, qualcuno mi ha detto, perché non arrivi a 120 kg di massa, perché non fai questo o quello, ma ragazzi io non avrebbe alcun senso che adesso faccio queste cose estreme, potrei anche arrivare a 120 kg, certo se mi metto sotto lo potrei fare, ma quale scopo? A parte che a questa età fare un aumento di peso così non è salutare, lo dico chiaro, perché vedi controllare poi i fattori, però è una cosa che non avrebbe veramente un qualcosa di salutare, perché sono 20 kg in più, di più forse anche circa, e non avrebbe senso poi per dimostrare che cosa, forse un centimetro più di braccio, due, due di gamba, ma un fisio di master è questo, è già incredibile, non è che un centimetro in più cambierebbe le cose, è chiaro? Quindi non è quel punto, però questo non vuol dire che non abbia obiettivi, dite la gara è scatenata oggi, ma potrei già liquidare la questione dicendo, l'obiettivo è mantenermi così, perché se io a questa età mi mantengo così, vuol dire che dietro c'è anche un grande lavoro, sicuramente è più facile mantenere una cosa già costruita che non costruirla, faccio sempre l'esempio del palazzo che da costruire richiede molte energie, molto materiale, una volta che è costruito a mantenerlo molto meno, questo è vero, però c'è sempre da fare un lavoro di manutenzione, specchio se il palazzo è molto grosso, quindi già solo con il fatto che mi devo mantenere al meglio è già uno scopo, però voglio anche dirvi che io in breve termine mi pongo sempre degli scopi, per esempio adesso, in occasione del mio 64esimo compleanno, che verrà il 28 dicembre, cercherò di arrivare lì in un stato di forma veramente ottimale, forse è la migliore che mi ha avuta, non lo so, e quindi pubblicherò delle foto, quindi già per me questo è uno stimolo, quindi posso dirvi anche questa cosa qua, ok? Vedremo. Adesso lì sarà un po' complicato, perché lì sono anche il periodo del trasloco della casa, non so come mi sono messo, non sarà facile, però cercheremo di fare tutto, ok? Ultima domanda, ecco mi dicono, ma tu prima o poi dovrai smettere di allenarti, e allora che cosa farai? Ecco, me la fanno spesso queste domande, ma io per simmetria potrei farvela voi, il giorno che smetterete di allenarvi, che cosa farete? Non so, rispondete, cosa farete? Io posso dirvi questo, quando verrà quel giorno significherà che probabilmente, dico probabilmente, sarà la fine, perché se io non dovessi più allenarmi, ci dovrà essere un motivo fisico molto grave, oppure circostanze della vita talmente gravi che tutto sarà finito, e quindi sostanzialmente posso dirvi che diffondo ragionalmente questo, io non smetterò mai di allenarmi finché posso, se non potrò più farlo, significa che è accaduto qualcosa di grave, è anche probabile che saremo vicini alla fine, questo posso dirvi, dopodiché quando accadrà questa cosa non lo so, noi non possiamo pensare continuamente al futuro nel senso che poi ci altera anche la visione del presente, la serenità del presente, perché spesso si fa questo errore, nel pensare a cose future che forse potrebbero accadere o accadranno, ma non si sa quando, uno si consuma nel presente e non vive il presente, mentre invece è chiaro che l'essere umano ha questa dote di pianificare il futuro, a differenza degli animali che vivono veramente il presente, istante dopo istante, non hanno la concezione del futuro, l'essere umano ce l'ha, è la caratteristica che gli ha permesso anche di costruire civiltà, la cultura e di fare i progressi, questo sì, però fissarsi troppo su cose che dovrebbero accadere, non si sa bene come, quando e quindi entrare in questo loop mentale, vi consuma il presente e questo non va bene, per cui vi dico, certamente cercate di pianificare il futuro, diciamo, nelle strategie di fondo, quello sì, è chiaro che faccio un esempio banale, se dovete riscate domani la bolletta, bisogna che cominciate a pensare domani ad andare a pagarla, ma queste sono cose pratiche ovvie, io sto facendo discorsi molto più profondi, ecco non so, tipo faccio un esempio, io per esempio un altro giorno un ragazzo mi ha scritto, ha detto no, perché io ho questa ragazza, io voglio veramente bene, tra un po' ci sposeremo, voglio farmi una famiglia, dei figli e poi ha cominciato il loop, però Marti se questa qui domani mi lascia, se questa mi tradisce, se questa non mi ama più, cosa farò, dove andrò, cosa vado in affitto, oppure non so, dovrò mantenerla, mille domande su una situazione che in realtà non è accaduta, non si sa nemmeno se accadrà, uno dice potrebbe accadere, sì, potrebbe accadere, ma se cominci già adesso a farti un loop mentale, per una cosa che o accadrà, chissà quando, o non accadrà, è chiaro che tu ti vai a bruciare il cervello in un loop mentale con questo momento, non che su queste cose non bisogna anche pensarci, è ovvio, però ci puoi pensare, ma come una cosa che al momento vivi presente, cerchi di pianificare a meglio le cose, le strategie, poi si vedrà, certo, uno può anche pensare già delle opzioni, delle opzioni A, opzione B, opzione C, perché spesso di fronte a un problema che si prospetta, se una delle opzioni pronte è meglio, però questo non vuol dire che tu devi consumarti ogni istante della giornata a pensare a queste cose, avete capito qual è il concetto? Allora, nemmeno io mi pongo questa cosa quando smetterò di allenare, non lo so, però per il momento mi alleno, sto bene, cercherò di andare avanti il più possibile, io porto anche avanti la tematica dell'anti-egica, la battaglia del ponte, molta gente si è venuta con noi, siamo contenti e noi portiamo avanti le nostre battaglie giuste, logiche, morali e noi dobbiamo farlo, perché è giusto farlo. Mi ricordo la frase di un film, adesso mi scusi il titolo, ma erano dei ragazzi che erano impegnati in una missione nobile, così, c'era un leader in questo gruppo di ragazzi, molto giovani, erano bambini poi, ragazzini, e la missione era molto difficile, allora i ragazzini un po' perplessi gli chiedono al leader, ma noi perché dobbiamo fare sta cosa? Ero un po' perplessi, no? E il leader a un certo punto gli dice, perché è giusto? Basta, quella è stata la sua risposta, perché è giusto? E ha già detto tutto. Ragazzi, io vi ringrazio e vi aspetto con noi, al top!